Buona la prima? Sì, buona la prima, anzi ottima e abbondante. Andate in archivio la prova di apertura del CDS 2023 su strada di atletica leggera che ha visto gli atleti impegnarsi sui 10.000 metri in pista nel rinnovato e bellissimo impianto di Reggello in provincia di Firenze. La manifestazione è stata organizzata tra l'altro in collaborazione con il gruppo podistico Parco Alpiapuane e va subito detto che gli atleti del presidente Graziano Poli non hanno deluso le attese. Di fatto gli stessi che poco più di un mese fa avevano portato nella ricca bacheca l'argento tricolore nel cross di Gubbio. Da sottolineare che si doveva correre sabato pomeriggio ma una clamorosa grandinata ha costretto gli organizzatori a spostare tutto a domenica mattina. Ebbene sul piano tecnico il gruppo podistico Alpiapuane si è esaltato anche sulla pista di Reggello che pure sulla carta non era la prova più favorevole e adatta alle caratteristiche degli atleti apuani. Ottime prove di Omar Buamè, quinto posto assoluto che gli vale il titolo di campione toscano e un 29-34 che è anche il minimo per i campionati europei su pista di pass in Francia. Ed ancora Poltiongic, sesto, Lorenzo Brunier, settimo. Apprezzabile anche la gara e rilievo cronometrico di Rudy Albano e Niccolò Bedini che si è fregiato del titolo di campione toscano Under-23. Oltre Bari, Lollo, Nardone, Fadda, Pogliani e Sagramoni. Uno squadrone che, calcoli alla mano, soffia sul collo del fortissimo Casone Noceto. Ci sono adesso da disputare le due successive prove che però arriveranno tra fine estate ed autunno. Il 10 settembre a Pescara e 10 chilometri su strada e il 15 ottobre a Telese di Benevento la mezza maratona. Gare nelle quali il parco potrà contare anche su un certo Francesco Guerra. Inutile negarlo, stavolta il presidentissimo Graziano Poli ci crede e spera in un titolo tricolore che andrebbe a ripagarlo di 20 anni di lavoro e di passione svolti in modo incomiabile. Lo meriterebbe.